Lezione introduttiva alla filosofia di Karl Marx. Cerchiamo di capire oggi quali siano i principali caratteri della filosofia elaborata appunto da Karl Marx. Karl Marx, come Hegel, è uno dei giganti del pensiero filosofico contemporaneo, del pensiero filosofico dell'Ottocento. Marx è un gigante della filosofia, poi è stato anche un pensatore gigantesco, forse anche ingombrante o forse troppo poco ingombrante per alcuni, nella filosofia politica del Novecento, nel proseguo degli studi filosofici, è un filosofo che ha avuto anche una ricaduta notevole nell'ambito storico e politico. Ma è da qui che vorrei partire, perché quest'anno, 2019 siamo a 30 anni dall'accaduta del muro di Berlino e direi che a 30 anni dall'accaduta del muro di Berlino più che mai possiamo presentare un Marx liberato, direi liberatissimo, dall'esperienza del socialismo reale, del socialismo sovietico. Non perché il nodo sia risolto del tutto, ci sono molte questioni su cui varrebbe la pena tornare, ma in un percorso studi liceale io vorrei invece più che mai presentarvi il pensiero, la filosofia di Marx, per quella che è stata la filosofia di Marx, filosofo, autore dell'Ottocento, autore nel cuore dell'Europa, delle rivoluzioni liberali, borghesi politiche, nel cuore dell'Europa della rivoluzione industriale, della nascita del momento operaio, il pensatore Marx liberato dall'esperienza del socialismo reale realizzato, in modo tale da poter andare, dicevo, il cuore pulsante del pensiero filosofico. E ora lo possiamo fare, le pubblicazioni su Marx a 30 anni da tutto il muro di Berlino sono veramente quasi non quantificabili, non c'è anno in cui non escano pubblicazioni filosofiche, politiche, economiche su Marx, su studiosi di Marx, di studiosi di Marx. Dunque il marxismo oggigiorno, come proseguito la filosofia di Marx, come studiosi che hanno seguito il corso di Marx, che hanno criticato Marx, lo hanno rilaborato, ripensato, ricostruito, oggi gli studi marxiani, le pubblicazioni su Marx sono molte, sono notevoli, è un periodo fiorente, lo scorso anno c'è stato anche il bicentenario della nascita, pertanto l'occasione ha fatto sì che tantissime case editrici europee e mondiali pubblicassero opere di Marx o su Marx. A 30 anni di circuito del muro di Berlino proviamo a ripensare Marx e a ripresentarlo in modo più che mai filosofico. Vediamo alcune caratteristiche del pensatore appunto nato a Traveri nel 1818 e poi morto nel 1883 a Londra, una vita ruggente, rivoluzionaria, travagliata. È un autore anche Marx XXL. Nella conferenza che ho fatto su Giordano Bruno ho definito Giordano Bruno un autore XXL, extra large, perché conduce una vita veramente immensa, roboante, avventuriera, ribelle, controversa, e la vita di Marx è altrettanto XXL. Dunque una vita in fuga, una vita d'amore, di rivoluzione, di amicizie, di scontri, di dolori, di dolori per perdite di figli, per perdite della moglie. Dunque due pensatori XXL con due vite XXL. Non tutti hanno la vita XXL. Ad esempio Kant è un pensatore forse XXXL, invece ho tre X per Kant, ma sicuramente la vita è small, è una S la vita di Emanuele Kant. Dopo questo paragone iniziamo. Allora, il pensiero di Marx. Innanzitutto la filosofia marxiana è una filosofia globale, è una filosofia globale, una filosofia totale. Cioè la filosofia di Karl Marx è una filosofia che muove un'analisi globale della società, muove un'analisi globale della società, compie un'analisi globale della società e della storia. Dunque è una filosofia che analizza in maniera globale la società borghese, capitalistica, industriale, europea e non solo dell'Ottocento, è una filosofia che analizza in maniera complessiva e globale la storia e il corso della storia. Dunque non parliamo di una filosofia teoretica, una filosofia politica, una filosofia solo sociale, una filosofia economica. Parliamo di una filosofia globale in cui ci sono aspetti teorici e pratici, aspetti sociologici, aspetti economici, aspetti politici. E' dunque un filosofo nel suo Karl Marx. Karl Marx va liberato dalla dimensione profetica, non fu un profeta del sol dell'avvenire, fu un filosofo, un conoscitore puntuale, puntiglioso, dei tempi che ha vissuto, della storia che ha vissuto, del mondo in cui ha abitato. E' chiaro dunque una filosofia, dicevo, della globalità. Una filosofia globale perché analizza in modo globale la società e la storia europea, la storia anche poi mondiale. Da un punto di vista più economico che politico, sì, più da un punto di vista economico che politico, ma il punto di fuga della filosofia marxiana è appunto l'analisi globale della società. Ed ecco la modernità di Marx, perché Marx come analista globale della società è oggi più che mai una fiorente, fertile cassetta degli attrezzi, perché noi oggi abbiamo più che mai bisogno di analisi complessive della società. Ovvio che le analisi complessive della società le fanno i filosofi, hanno preteso di farle, le hanno fatte, vorranno ancora farle. Oggi le analisi complessive della società devono mettere insieme tanti pezzi. I pezzi dell'economia, della politica, della scienza, i pezzi dell'antropologia, della sociologia. Voi che siete in questo momento alla ricerca anche dei prosegui di studi, chi fa studi teorici ovviamente in primis, può fare studi teorici di natura antropologica, economica, di natura sociologica, di natura storica, filosofica o giuridica. Ok, ci sono molti aspetti a partire dai quali analizzare la società, ma anche un analista globale della società. È chiaro questa cosa, è una cosa molto molto importante ed è un filosofo in questo. È un filosofo, vuole comprendere il funzionamento della società, individuare le caratteristiche della società e dei tempi in cui vive, per fare delle previsioni future, per capire se ci sono delle leggi della storia, ci sono delle leggi dell'economia, ci sono delle tendenze e poi a partire da queste tendenze capire quale possa essere l'azione da instaurare all'interno della storia, all'interno della società, all'interno delle dinamiche politiche ed economiche. Va bene, dunque filosofia, vi dicevo, della globalità e le sue opere, il manifesto, il capitale su tutto, su tutti ne sono un esempio, ma anche i manoscritti economico-filosofici. Sono delle opere filosofiche che analizzano l'uomo, che analizzano l'uomo operaio, l'uomo merce, che analizzano il sistema di produzione capitalistica, che analizzano l'uomo religioso, e molti aspetti dell'uomo nella società presenti nelle opere di Marx. Primo punto, filosofia globale, di analisi globale della società e della storia. Secondo punto, Marx è un filosofo della libertà. Io so che questo è un punto più dibattuto, più controverso, più discusso, però Marx è il filosofo della disalienazione umana, della emancipazione umana. Disalienazione e emancipazione significano libertà. Il punto di fuga di Marx è l'emancipazione dell'uomo, è la possibilità di costruire la libertà per l'uomo. C'è l'uomo, è un animale che deve tornare ad essere libero, che deve essere libero. La libertà è la via di fuga dell'umanità, la libertà è il bene più prezioso, ma ovviamente la libertà è connessa per il tema della giustizia e dell'uguaglianza in Marx. Ma Marx è il filosofo non dell'uguaglianza pauperistica, non è il teorico poi di un comunismo evangelico pauperistico in cui gli uomini devono vivere con poco, di poco, tutti uguali. E' chiaro, non è questo l'obiettivo della filosofia di Marx. Ripeto, un'uguaglianza di povertà, perché nella povertà l'uomo... Tutte teorie anche interessanti, belle, di cui discutere, perché nella povertà, nella semplicità, nel poco, l'uomo può ritrovare la grandezza d'animo, la serenità, la giustizia, la convivenza. Dunque un pauperismo ecologico, morale e di uguaglianza di natura cristiana. Dunque non è questo Marx, si può leggere anche così Marx. Ma Marx ha come obiettivo emancipare l'uomo, affrancarlo, renderlo libero dallo sfruttamento. Lo sfruttamento di chi? Di che cosa? Dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Perché nella storia, la storia che tanto analizza e tanto studia, alcuni uomini sfruttano e dominano altri uomini. Bisogna rompere le catene del dominio dell'uomo sull'uomo. Cioè gli uomini devono essere liberi dallo sfruttamento che in maniera dominante alcuni impongono e altri subiscono. Dominante alcuni impongono in maniera passiva, per debolezza, per situazioni strutturali, economiche e sociali, alcuni uomini invece subiscono. Poi non sono alcuni, ma sono molti uomini subiscono le catene dello sfruttamento e pochi uomini impongono le catene dello sfruttamento. È chiaro dunque, lo ripeto con una volta di alcuni passaggi, filosofo della libertà. Marx, la filosofia marxiana, i libri di Marx, gli studi di Marx, sono volti, atti a proiettare l'uomo verso la dimensione di libertà. L'uomo deve essere libero, l'uomo deve disalienarsi. Da che cosa? Dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. L'uomo non può ridursi a merce, l'uomo si è ridotto a merce tra le merci, l'uomo si è ridotto a uno strumento per realizzare plus valore, per realizzare ricchezza. L'uomo non può ridursi ad essere alienato, non può ridursi a merce. L'uomo deve attraverso il lavoro emanciparsi. Serve un lavoro libero e liberato per rendere libero e liberato l'uomo. Dunque liberare il lavoro dall'asfruttamento per liberare l'uomo dall'asfruttamento, una società di uomini liberi dall'asfruttamento. Lo sfruttamento dove si realizza? Nel lavoro innanzitutto, secondo me, in ambito economico si realizza lo sfruttamento, nei rapporti di forze economiche, economici, in cui c'è un soggetto dominante e c'è un oggetto dominato, dove c'è una tesi e un'antitesi, è allievo di Hegel, dove ci sono coscienze in lotta e c'è una coscienza che dominerà un'altra coscienza, c'è una lotta tra autocoscienze che termina chiaramente con il dominio di una sull'altra, nella speranza, poi dirà, e Marx, che ci sia una speranza, nella certezza che c'è sempre una dialettica, perché quella è la storia. E poi anche, nel suo caso, un impegno affinché ci sia l'emancipazione delle autocoscienze sfruttate, dominate, è chiaro? E dunque è una filosofia della libertà per gli oppressi. La storia si divide in una lotta di classi, tra classi sociali contrapposte. Patrizia e plebei, liberi e schiavi, di fatto oppressori e oppressi. Da sempre la storia si muove lungo la legge della lotta tra classi subalterne e dominanti. Nella lotta tra le classi subalterne e le classi dominanti si liberano energie vitali, che sono energie finalizzate all'emancipazione. E nella lotta tra le classi il finale è o l'emancipazione di una delle due o la rovina di entrambe. Pertanto nella lotta c'è sempre il rischio che entrambe le classi sociali caschino nella rottura, nel disastro complessivo, o c'è l'emancipazione, il miglioramento di una delle due. Però questa è la storia, dice Maha, e la dinamica di libertà. Dunque la lotta di classe termina o con la rovina di entrambe le classi sociali e con l'emancipazione di una. Dunque la lotta di classe è come portatrice di libertà e di emancipazione. Dunque non un filosofo dell'uguaglianza. L'uguaglianza è una condizione della libertà. Perché se gli uomini non sono uguali, cioè non si rimpossessano in maniera uguale del loro lavoro, delle terre, l'uguaglianza è una condizione per diventare liberi. La giustizia è una condizione per diventare liberi. Ragazzi, perché se non c'è oggigiorno un'uguaglianza salariale tra uomini e donne, le donne non prendono lo stesso salario, lo stesso retribuzione per lo stesso lavoro che svolgono i maschi. Questa non si chiama libertà, perché c'è un soggetto, in questo caso la lavoratrice femminile, che è maggiormente sfruttata di quanto non sia il lavoratore maschile. È chiaro. Dunque l'uguaglianza all'interno della dimensione economica lavorativa è un prerequisito, una caratteristica necessaria per arrivare poi dopo alla libertà. Perché se non si ha un'uguaglianza. Solo che l'uguaglianza di cui parla Mario non è più l'uguaglianza di fronte alla legge. Bisogna essere uguali liberi nella vita reale. La vita reale, ragazzi, è quella fatta in carne e ossa, quella fatta di materia. Non voglio dire che la libertà di pensiero, di stampa, sia un solo libertà dello spirito. Lo sono anche. Ognuno di voi ha libertà di stampa, ognuno di voi ha libertà di opinione, ognuno di voi ha queste libertà e sono libertà fondamentali, libertà tipiche del mondo liberal borghese, della rivoluzione americana, francese, inglese, delle rivoluzioni liberali democratiche dell'Ottocento. Omar dirà una cosa in più. Quella libertà se vi siete persi vi recupero. È una libertà formale, fondamentale. Bisogna andare oltre le libertà che valgono sulla carta, valgono in tribunale, importanti, valgono formalmente perché tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge dello Stato, tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, non ci sono discriminazioni, tutti hanno delito di voto, tutto è libero di stampa. Non era ancora così nell'Ottocento. Ma al di là di questa libertà c'è un problema. Chi io non ho una casa e tu sì. Chi io lavoro dieci ore per due monete e l'altro invece a fine giornata ha mille monete. E io mi ammalo, non ho un dottore, noi viviamo nell'area inquinata nei somborghi di Londra, noi moriamo in una barca nel Mediterraneo. È chiaro, nella vita reale e concreta c'è l'occupato, disoccupato, chi non ha salario, chi ha salario, chi guadagna tantissimo, chi guadagna pochissimo, chi è proprietario di metà palazzo di Torino e chi invece non ha una casa. Questo è il problema della disuguaglianza reale, che è il grande problema della società occidentale oggi. Noi lo stiamo rimandando, le disuguaglianze aumentano, molti pensano che questo non sia un problema, che non sia un problema. Avete visto, non so se avete visto, quando ho cercato di dire alla trasmissione Quarta Repubblica di fare un discorso politico non partitico, loro faticano ancora a capire la differenza, che a trasmissione c'è un problema di lavoro, di casa, di mezzo di trasporto, fanno la qualità materiale della vita. Perché? Perché se Valeria esce di qua e i pulmi non passano perché sono rotte, la sua qualità della vita, del suo studio reale e materiale cambia rispetto a uno che invece ha immediatamente mezzo di trasporto per andare a casa. Avere una borsa di studio e non avere una borsa di studio all'università fa sì che uno che abbia i soldi può andare e uno che invece non ha i soldi non ci possa andare. E la vita è fatta di queste condizioni materiali. Marx è un filosofo, in questo caso, della libertà, ma di una libertà che si conquista a partire da questioni materiali, di un'uguaglianza che va già costruita nella materialità della storia. 3. La filosofia di Marx è una filosofia materialista, è il teorico del materialismo storico dialettico. Secondo Marx, allievo sia di Hegel, ma in questo caso anche e soprattutto di Feuerbach, il principale esponente della sista hegeliana, Marx, allievo appunto di Hegel e di Feuerbach, cosa ci dice? Ci dice che il divenire è storico, l'ha detto Hegel, la dialettica, la storia è dialettica, il divenire è storico e dialettico, la storia dell'arte, di religione, guardate la filosofia, Hegel. Il divenire è storico e dialettico, perché procede per tesi e antitesi, ma il divenire storico e dialettico è anche materiale. La storia è materialità, la storia è bisogni soddisfacimento, bisogni soddisfacimento e poi la storia è lavoro che risolve la dicotomia o dei bisogni, li devo soddisfare, come faccio a soddisfarli? Attraverso il lavoro, ho il bisogno di proteggermi dalle intemperie, va bene, questo è il bisogno, come il soddisfacimento di questo passa attraverso il lavoro, la palafitta, una caverna, una casa, bisogno di spostamento, il lavoro, il calesse, l'automobile, bisogni soddisfacimenti, poi bisogni di natura diversa, bisogni materiali o bisogni spirituali ma connessi a un corpo, perché fosse anche il bisogno di gioco, di svago, di tempo libero e un bisogno di natura emozionale, spirituale dell'anima che nasce da un corpo, perché il bisogno del diritto al gioco, bisogno di giocare, spesso deve avere un bambino che nella sua vita materiale durante il giorno non può farlo, perché lavora i campi, perché è un bambino soldato o perché appunto prende un sacco di botte, dunque anche l'anima è collegata alla dimensione materiale in cui noi viviamo, è chiaro? Ecco il materialismo, la storia è bisogno di soddisfacimento attraverso il lavoro, la storia è materiale, fatta di guerre, guerre di classe, guerre tra stati, guerre economiche, guerre politiche, la vita è materiale, è innovazione tecnologica. Ragazze, un breve esempio faccio per voi qua, il movimento femminista ha conquistato tantissimi diritti a partire da fine ottocento, sono diritti civili, politici al voto, all'inizio, per arrivare ai diritti più sociali e economici degli anni 70, ma sapete qual è quella cosa materiale che ha fatto la vostra emancipazione? L'anticoncezionale. Perché? Perché l'anticoncezionale vi ha liberato dal fatto che ogni volta che voi avete un desiderio sessuale, non correte il rischio di rimanere incinta per un'opzione di dominio che il maschio può fare su di voi, perché lui può promettervi di uscire prima, di essere sterile, di prendersi cura del vostro figlio, ma sono parole. A queste parole voi contrapponete una bella cosa che si chiama anticoncezionale. L'anticoncezionale ha liberato materialmente la donna dal dominio del maschile, il quale maschile utilizzava il desiderio femminile, oltre il proprio desiderio, per imporre un vincolo di dipendenza. Perché la donna poi, non è che abortire sia prendere un bicchiere d'acqua, poi anche negli anni, poi anche rimanerci secca, è chiaro, può dare degli shock, oltre che psicologici, eventualmente anche religioli, se una persona religiosa, cosa, ma poi soprattutto ti obbligava, se volete dare un figlio, ad essere poi per tutta la vita tu con tuo figlio. Tu avevi un desiderio di sessualità, come ce l'aveva il maschio, il maschio alla fine ha il desiderio di sessualità, prende la porza, la sigaretta, apre la porta e se ne va via, e tu rimani poi lì con un figlio in grembo. È chiaro, dunque, la storia materiale vuol dire proprio che la dimensione storica è data dall'intrecciarsi tra bisogni, soddisfacimento, esigenze materiali reali, concrete, che influenzano la dimensione poi dello spirito, la storia delle idee. E la materia che fa le idee non è l'idea che fa la materia, questo è Feuerbach riproposto, è chiaro? Ma la storia, cioè come diceva Hegel. Quarto punto, la filosofia marxiana è una filosofia che abbina la teoria alla prassi, è una filosofia in cui la dimensione teorica, filosofica teorica di comprensione della realtà è abbinata alla dimensione pratica. Per Marx la teoria e la prassi sono due aspetti ineludibili, due aspetti uniti, agganciati della filosofia. Non esiste una filosofia pratica e una teoretica, una filosofia delle teorie, delle idee e una filosofia delle azioni pratiche. La filosofia è teoria più prassi. Cosa vuol dire? Vuol dire che fare filosofia vuol dire comprendere la realtà per trasformarla, per cambiarla. La filosofia è una speculazione teorica, io comprendo il funzionamento della società capitalista, io comprendo il funzionamento della famiglia, dello Stato, io comprendo il funzionamento del mercato, io comprendo il funzionamento del reale, andiamo ad Hegel, la filosofia per Hegel comprendere il reale, ma per Hegel e la comprendere il reale per riconoscere la razionalità del reale, per Marx e comprendere il reale non per accettarne la razionalità sempre simultanea e istantanea, ma per trasformare la realtà verso la razionalità. Ma sapete quando una cosa è razionale per Marx? Quando è giusta, quando c'è libertà e emancipazione. Bellissimo, lo so, è un po' difficile, lo ripeto. Per Marx la filosofia non è analisi, comprensione della realtà per stabilirne la razionalità, non è nottola di Minerva come Hegel. La filosofia come nottola di Minerva arriva al termine del giorno, valuta, comprende il giorno che è passato e lo cataloga, lo categorizza e dice il giorno, cioè il reale è questo. La filosofia per Marx è, un'altra immagine che vi lascio è questa, una talpa, potremmo dire, una talpa che scava la realtà, dunque entra nella realtà, conosce la realtà, ma perché conosce la realtà? Per poterla trasformare, cambiare. Cambiare in quale direzione? E questo è Marx, la direzione della giustizia, libertà e uguaglianza, cioè nell'emancipazione degli uomini e delle donne, oggi potremmo dire anche della natura. Si chiama eco-marxismo, studi filosofici marxiani sono sviluppati in modo particolare negli Stati Uniti, in California, negli anni 70, poi sono arrivati anche alla Sorbona, a Parigi, poi anche in Europa. Va bene, l'eco-marxismo, cioè io comprendo il reale per poi trasformarlo. Dunque filosofia, unione di teorie e di prassi, non più filosofia notua di Minerva, che prende atto del reale, che è razionale, dunque che lo comprende come un signore seduto al bordo di un fiume e vede il fiume scorrere, l'acqua scorrere, dice l'acqua sta scorrendo in questo modo e dicendolo, comprendendolo, essa è razione reale, bensì è in questo caso una talpa o un pescatore che entra dentro il fiume per cercare di, o come un castoro, di costruire una diga dentro il fiume per dire allora questo fiume, che è la storia, è il reale, io provo a cambiarlo per portarlo verso la razionalità. Il fatto che ci siano medicine nel mondo, ma che persone non abbiano accesso alle medicine, faccio Marx adesso, per Marx è una irrazionalità, ci sono persone nel mondo che vaccinate guarirebbero. In un'altra parte del mondo ci sono delle medicine, dei vaccini, che però non vanno ad incontrare le persone che ne hanno bisogno. Questo mondo allora non è razionale, serve l'azione di trasformazione della realtà e far sì che le persone che in questo momento muoiano di malattie perché non hanno vaccini, siano realmente vaccinate e dunque diventino libere. Questo mondo non è razionale in questo caso, la razionalità si raggiunge quando c'è libertà e uguaglianza, ma non per pochi, per tutti. Questo è l'obiettivo di Marx. Da lì l'idea lavoratori di tutto il mondo unitevi. Karl Marx non termina dicendo lavoratori italiani unitevi, lavoratori russi, lavoratori inglesi, lavoratori tedeschi. I lavoratori devono organizzarsi nella Germania, nell'Italia, nella Russia, nell'Inghilterra, negli States o in Cina, ma l'obiettivo è l'emancipazione del lavoro sfruttato, non del singolo lavoratore. Dunque l'obiettivo è la razionalità. Potremmo dire che fino a quando un uomo è sfruttato la rivoluzione ci deve essere. Ovunque ci sia ingiustizia e sfruttamento, lì ci sarà un'azione che va compiuta per cambiare la realtà. E ultimo punto di questa introduzione, la filosofia marxiana, la filosofia di Marx è una filosofia dunque rivoluzionaria. La filosofia di Karl Marx è una filosofia rivoluzionaria. Mi sviluppate il punto 4, perché? Perché se la teoria va di pari passo con la prassi, vuol dire che la filosofia non è contemplazione, la filosofia è trasformazione. Ma trasformare la realtà cosa vuol dire? Compiere una rivoluzione. Chiaro? Buongiorno. Copernico ha rivoluzionato il mondo delle scienze, delle scienze astronomiche, ha rivoluzionato un modo di vedere il mondo. Copernico è uno dei personaggi storici, filosofi, gli scienziati, gli astronomi preferiti da Marx. Marx amava Copernico. Marx, l'ho detto in quella conferenza che avete sentito, è un amante poi della letteratura, un amante delle scienze, era onnivoro. Marx leggeva in continuazione, scriveva come fosse un fiume in piena. Dunque è una personalità, dicevo, XXL strabordante, è chiaro. Dunque, come Copernico ha rivoluzionato il mondo delle scienze, dell'astronomia, il mondo delle idee, così il filosofo, dice, deve rivoluzionare la realtà per trasformarle, cambiare nell'ottica della giustizia e della libertà. L'emancipazione la si ottiene attraverso la rivoluzione. Perché il mondo non è un mondo di emancipazione, è un mondo, abbiamo detto, di sfruttamento. Oggi il mondo è pieno di lavoro sfruttato. Lavoro sfruttato dove? Lavoro sfruttato qua, da noi, in Italia. L'immagine che avete visto di queste baraccopoli di moderni schiavi che raccogliono i pomodori per pochi euro al giorno. Il lavoro sfruttato nel Bangladesh, nel Vietnam, il lavoro poi sfruttato in America Latina, il lavoro sfruttato in ogni parte del pianeta è sfruttato. Chiaro? C'è del lavoro meglio retribuito, più dignitoso, un lavoro maggiormente emancipato. Ma c'è una gran massa di lavoro che non è emancipato, che è sfruttato. Poi Marx non si ferma a dire devi essere ben retribuito, perché secondo poi Marx l'emancipazione ultima è quando il lavoro libero d'assfruttamento non produce neanche più plus lavoro, cioè non produce in più che va in mano qualcuno, quando il frutto del lavoro sarà di tutti, sarà socializzato in base alle esigenze anche delle persone. da ciascuno secondo le sue capacità a ciascuno secondo le sue esigenze. È la più grande idea di libertà che sia mai stata. Io quando in classe provo a farlo ho dei problemi con i ragazzi. Ve lo faccio sempre cosa vorrei dire. Io entro in classe, io ho qualcuno di voi che sa leggere meglio, che sa fare meglio di filosofia, l'altro di matematica. Cosa devo fare io? Da quella persona, per creare una quinta bielle libera, devo avere di più. E allora lei che è molto bravo di filosofia, lui che è molto bravo di filosofia, ci restituisce alla classe molto di più perché è bravo. Invece loro due, che sono più scarsi di filosofia e storia, anziché darci, prendono. Ma il mondo liberale borghese, vedete queste cose che dico sotto il video, sono oggetto di discussione. Cosa ti dice? Eh no. Se lei mi ha dato di più, lei avrà di più. Nove, dieci, tutti i crediti. Ha fatto una lezione per gli altri, va bene, se gli altri hanno preso appunti. Ma non lei mi dà di più e poi va a ricevere di più, in ottica di tempo, quello che è più bisognoso. Questa è la libertà di Marx. Cioè io prenderei di più dello studente che è bravo, a cui posso anche dare poi un bellissimo voto, ma poi passo la maggior parte del mio tempo con lo studente più scarso, per quello più scarso ha più bisogno. Così immaginatelo nel mondo, dove c'è una persona che è più povera e una più ricca. Dove c'è una persona che è abile e una che è diversamente abile. Ci sono delle persone che possono dare di più e delle persone che debbono ricevere di più. Non dovete immaginare, è un problema, qui liberale non ha ragione, certo che se io ho poco per chiamo stare tutto il giorno in panciolle e voglio ziare, polemica è nata adesso, sono io di cittadinanza, però io mi alzo il mattino, mi faccio un culo tanto per lavorare, tutto qui magari non trovo lavoro, e vi prende un reddito di cittadinanza. È sbagliato, perché io non voglio lavorare e dover pagare con le tasse un reddito a coloro che non vanno a lavorare, che è un ragionamento sensato, perché la società non può fondare sul fatto che qualcuno lavora e altri siano a carico degli altri. Però è anche vero che non tutti abbiamo le stesse poste di lavoro, le stesse conoscenze, i punti di partenza, le stesse opportunità, è chiaro. Dunque una società nel proprio complesso deve tenere conto di questi fattori e dovrebbe la società, tutto quello in più che produce, ridistribuirlo in maniera equa per poter arrivare il più possibile ad una libertà nell'uguaglianza, un'uguaglianza a libertà. Banzo utopico? Forse sì. Forse lui si arrabbierebbe tantissimo, non è utopismo questo. Perché? Perché o tutti insieme salviamo questo mondo, cioè usciamo da una conflittualità che a un certo punto si farà esasperata o altrimenti alcuni vinceranno e alcuni perderanno. È la famosa però anche teoria della botte piena della moglie ubriaca. Sarà molto difficile avere un mondo di disuguaglianze e pretendere che noi in Europa, nelle nostre casette, che non c'è neanche più tra l'altro, possiamo vivere in felicità e in armonia, perché il mondo è uno. La disuguaglianza provoca conflitto e i conflitti si possono assalare in due modi, o con la giustizia e l'uguaglianza, o con il prevaricare di uno sugli altri. Se scegliamo il prevaricare di uno sugli altri, scegliamo di stare in guerra. Mi ricorda di Thomas More, fatto lo scorso anno, il discorso che fa un cubista evangelico, Thomas More. Non è la pena di morte a far diminuire la criminalità a Londra, non è la pena di morte a far diminuire il numero di omicidi a Londra. sarà maggiore giustizia, maggiore lavoro, maggiore uguaglianza. E Thomas More viene secoli prima di Marx, ha questi detti trasformarsi età. Dunque chiudo questa, già mi sembra lunghissima introduzione, rimanendo questo concetto. Secondo Marx, la filosofia ha un anelito, ha uno slancio rivoluzionario. Ricordiamoci l'ultima tesi su Feuerbach, quella che è sulla propria tomba a Londra, appunto, i filosofi sinora hanno interpretato il mondo, la realtà vuol dire, è giunto il momento, è giunta l'ora di cambiarlo, il mondo. La filosofia non interpreta il mondo, la filosofia è slancio, evoluzionario, passione, intelligenza, coscienza, conoscenza materiale, azione per cambiare la realtà del mondo.